Sono stati consegnati nei giorni scorsi alla Regione Abruzzo da parte di Trenitalia altri due treni POP che saranno immessi in circolazione sulle tratte Pescara-Teramo, Pescara-Termoli e Pescara-Sulmona. Tali consegne portano un totale di 13 treni di ultima generazione in circolazione sulle linee abruzzesi e rientrano nei piani di investimento sottoscritti tra Regione Abruzzo e Trenitalia che prevedono l'acquisto di nuovi treni per oltre 27 milioni di euro. I mezzi sono dotati di un sistema di videosorveglianza interno che migliora la sicurezza, dispongono di posti pensati specificatamente per i diversamente abili vicino alle porte di accesso e ai servizi igienici per facilitare il transito delle persone a mobilità ridotta e sono inoltre dotati di 12 posti bici. Si abbassa ulteriormente l'età media della flotta regionale da 21 a 12 anni con l'obiettivo di garantire un servizio su rotaia sempre più efficiente e affidabile basato su un maggior comfort e sicurezza per i passeggeri che potranno viaggiare su mezzi sempre più green.